Siamo al 28esimo appuntamento con 90 secondi con l'arte napoletana di Porta Cappella San Severo dove vediamo questa ultima acquisizione del museo dal 30 gennaio del 2020 esposto questo vale che è un ritratto di Don Raimondo del De Mura. È un'opera matura del pittore Don Raimondo viene rappresentato ancora fiero, giovanile, con naso imponente, labbra sottili, occhi dallo sguardo attento, gioviale, fronte alta e vestito con l'armatura. Del resto era un colonnello del reggimento di Capitanata dal 1743 e ha combattuto nella battaglia di Velletri. Sul petto è presente la testa di Leone che compare anche nel ritratto del figlio e porta una fascia rossa che scende dalla spalla destra ma anche il manto rosso con i gigli dorati che sono le insegne dell'ordine di San Gennaro che lui rivestì dal 1740. E sul volà del pettorale compare anche il colore azzurro e oro della sua casata, la casata di Sangro. È un'opera che permette di vedere che l'opera che è stata acquisita dal mercato antiquario di Madrid mette in evidenza i colori particolarmente preziosi e il contatto con la pittura francese. Alla prossima, ciao!